Il 2013 sarà l'anno del debutto tra i professionisti di Francesco Manuel Buongiorno. L'atleta calabrese, cresciuto ciclisticamente in Toscana, sarà alla corte di Bruno Reverberi, al fianco di atleti già noti come Sascha Modolo, Enrico Battaglin e Stefano Pirazzi. La formazione della Bardiani Inox Pro Team si arricchisce così di un nuovo e sicuro talento. Il passaggio tra i professionisti di Buongiorno è il giusto coronamento di una stagione da sogno vissuta nel 2012 tra i dilettanti Under-23. Sei vittorie tutte di peso, a cominciare dalla conquista della maglia tricolore nella prova su strada disputata a Roncegno Terme in Trentino. Al suo attivo anche una tappa del Toscana Terra di ciclismo. Un successo raggiunto con la maglia della nazionale italiana e in questa prestigiosa corsa a tappe internazionale Buongiorno ha conquistato anche il terzo posto nella graduatoria finale. Il campioncino residente a Fucecchio nel 2012 ha vestito anche la maglia azzurra al campionato del mondo disputato a Valkenburg. Ora per lui è arrivato un contratto triennale da professionista che verosimilmente gli permetterà di disputare anche il Gido d'Italia. È una categoria comunque la massima categoria, bisogna prendere all'inizio le misure, comunque sono giovane, andrò a scontrarmi con atleti sicuramente di fama mondiale con parecchia più esperienza, cercheremo sempre di dare sempre il massimo, crescere piano piano e sperare in una bella carriera. C'hai già un obiettivo per il prossimo anno, quale limite ti sei posto? Ancora sì va bene, qualche obiettivo però lo definirei più un sogno di comunque di riuscire a entrare nella rosa per partecipare al Giro d'Italia e comunque sai obiettivi, come ti ho già detto bisogna prendere le misure e vediamo quello che viene, daremo sempre il massimo sia per me che per la mia squadra. Francesco Manuel Buongiorno è nato a Reggio Calabria il 1 settembre 1990 ma da molti anni vive e corre in Toscana. Nel 2009 e nel 2010 fu con Franco Chioccioli alla futura team matricardi di Pian di Scò. Dopo una parentesi in Veneto nel 2011 Manuel è tornato da trionfatore in riva all'Arno vestendo la maglia della Opla Vega Track Italia Valdarno. Insomma Francesco Manuel Buongiorno di Fuscecchio è a tutti gli effetti un atleta fiorentino e per questo motivo la provincia di Firenze gli ha consegnato a dicembre il premio per lo sport. Un onore perché allenandomi sempre su queste strade qua e correndo su queste strade qua ricevere un premio comunque a Firenze è sempre per un atleta della zona molto molto bello.